Nascondeva un'ampia scelta di droga, ketamina, shabot, ecstasy, droga già confezionata e pronta per lo spaccio al dettaglio. Lo spacciatore, un cinese di 30 anni finito in carcere lo scorso 20 febbraio al termine di un'operazione antidroga dei carabinieri, è stato condannato oggi a 4 anni e 4 mesi di reclusione. L'uomo è stato giudicato con il rito abbreviato. Il giudice delle odienze preliminari ha pronunciato una sentenza più pesante di quella invocata dal pubblico ministero Laura Canovai che aveva chiesto 4 anni. Condanna pesante in considerazione del carico di stupefacente sequestrato dagli investigatori, 4.000 pasticche di ecstasy per un peso complessivo di poco inferiore a 2 chili, più di 800 grammi di ketamina e altrettanti di shabot. Una quantità sufficiente, dissero i carabinieri, a soddisfare le richieste della piazza pratese per circa due settimane. Tra i clienti, individuati in seguito all'analisi dei telefoni in uso allo spacciatore, tanti cinesi e qualche italiano. Se gli inquirenti non fossero arrivati in tempo e la droga fosse finita sul mercato, l'incasso sarebbe stato di 200.000 euro. Il cinese, incensurato e clandestino, fu fermato in via Erbosa. Per evitare di entrare nel mirino delle forze dell'ordine, nel caso rendere più difficili i pedinamenti, si spostava con i taxi abusivi dei connazionali. A bordo di questi raggiungeva il cliente, consegnava la droga, prendeva i soldi e tornava a casa. Dopo qualche settimana di custodia cautelare in carcere, il cinese ottenne una misura più lieve, un alleggerimento che gli ha consentito di rendersi irreperibile. Ancora oggi è latitante.